Oggi nessun automobilista è in grado di prevedere cosa accadrà alla propria auto. Per questo abbiamo sottoposto la Rover 200 a un processo di verniciatura in nove fasi, inserito un sistema di isolamento agustico, montato sospensioni indipendenti e arricchito la gamma con un 1.416 valvole da 103 cavalli e un 1.8 turbodiesel, anche per tirarmi fuori dai guai. Nuova Rover 200, da l'ire 18.400.000 chiavi in mano. Grazie a tutti.